Intanto, mentre Giaminonda in diretta sta parlando allo stadio Alvarez, un po' la croce delizia dei tifosi del Bari perché alterna cose buone ad altre meno buone, fa disperare i tifosi perché è assolutamente incapace di fare gol facili perché anche domenica scorsa ha avuto due palle gol che ha sciupato malamente. Tu che giudizio dai di Alvarez nel complesso? È un giocatore che ti piace, non ti piace? È un giocatore secondo me che gode della stima, ma questo è evidente, della stima di Ventura dal quale Ventura chiede sempre il massimo. È chiaro che i tifosi baresi vorrebbero sempre i giocatori che fanno gol, che saltano l'avversario, che fanno il florio del passato, però noi dobbiamo anche capire che Alvarez fa, forse non ce ne accorgiamo, ma fa tante di quelle volte il campo avanti e dietro per cui quando viene chiamato, quando lo giudichiamo palla al piede che deve concludere o deve fare qualcosa non si può pretendere che ogni azione abbia lo spunto decisivo. Da Alvarez bisogna prendere i lati positivi, che sono la velocità, il dribbling, ma la continuità... Io dico comunque la capacità di non perdere mai il duello sulla sua fascia, se è una peggiore delle ipotesi lo pareggia perché gli altri sono così preoccupati della sua velocità che non affondano il colpo. C'è un'altra migliore in linea, pronto? Pronto? Niente, abbiamo perso la... Dicevo, l'unico difetto che io noto in Alvarez è che quando è troppo in fase difensiva è di spalle alla porta, quindi perde tempo nel girarsi, però è il pelo nell'uovo, è chiaro che in quella zona del campo il giocatore aspetta il passaggio del compagno di squadra rivolto verso il compagno delle retrovie, quindi è proprio trovare il pelo nell'uovo. C'è una migliore in linea, prendiamo un'altra telefonata, pronto? Sì, ciao Enzo, sono Nicola. Ciao Nicola, ciao. Saluta l'ospite. Ciao, ciao. Enzo, spero che queste 11 partite vengano sfruttate bene l'allenatore. Sì. Il fatto è che comunque, ormai la salvezza è quasi acquisita, non vorrei che ci sarebbe un caldo di tensione proprio, cioè che alla fine davvero noi dobbiamo prendere i punti a Siena, con Livorno, cioè sembra che ormai abbiamo scritto 8 sconfitte e ce le abbiamo già pronte, e tre vittorie. Questo non sta bene, perché vuol dire ridimensionare questo campionato. Mi piacerebbe tanto che comunque Ventura adesso ripropongo un po' più Camatà, Devezze, non peraltro perché Stellini, anche perché questi personaggi hanno collaborato tantissimo alla promozione in A, quindi meritano un pochettino di vetrina. Va bene, va bene Nicola, grazie per il tuo intervento, beh io non sarei così, insomma io credo che Bari voglia finire in bellezza, voglia fare un grande finale di campionato, non si sa mai, insomma, peraltro, io l'ho detto, fare bene quest'anno in questo finale di stagione, chiudere alla grande questo campionato vorrebbe dire probabilmente lanciare le basi anche per un'altra stagione importante. Le squadre che chiudono in flessione o rinnovano tutto, rinnovano tutto, oppure l'anno successivo risentono ancora della flessione, della mancanza di entusiasmo e poi fanno male, quindi io credo che alla fine il Bari farà bene in questo finale di campionato, io credo che si possa togliere parecchie soddisfazioni anche perché ha delle partite, è uno sfizzetto battere il Napoli in casa, non so, batter la Roma in casa, batter la Fiorentina, il Bari è un bel calendario, ha delle belle partite ancora da giocare in casa, insomma tutti quanti pensano sempre a Milan, Inter e Juventus, però se mi permettete battere la Roma, battere il Napoli, battere la Fiorentina, restano imprese e poi non solo, arriva non oggi, praticamente il 24 credo, arriva Cassano a Bari e questa è un'altra partita da Milano alla notte, Cassano che arriva con la Sampdoria, un turno infrasettimanale il mercoledì sera, credo che valga assolutamente il prezzo del biglietto perché è la prima volta che Cassano torna al San Nicola seppur da avversario, quindi insomma il calendario propone motivazioni molto forti, c'è poi il Parma che è una squadra che il Bari non riesce mai a battere il giorno 21, quindi ci sono parecchie partite belle di qui alla fine del campionato, ci fermiamo per qualche istante, dopo la fase pubblicitaria torneremo a parlare dei temi caldi dell'attualità bianco-rossa fra poco. Mi dicono che a tempo di record, è il caso di dire, vi possiamo già proporre la conferenza stampa di Alvarez, Alvarez che ha parlato poco fa allo stadio San Nicola e quindi insomma non so neanche cosa abbia detto, quindi insieme ci vediamo questa intervista, cosa ha detto il giocatore onduregno, la ripeto ancora una volta, croce delizia dei tifosi del Bari, vediamo Alvarez. Si va cercando di giocare della migliore maniera possibile, come il Bari lo sa fare e speriamo che sia così per questa partita, per cercare di raggiungere il nostro obiettivo al più presto possibile, visto che mancano 11 partite non bisogna fidarsi e cercare di arrivarci con la mentalità giusta. C'era un momento di crisi perché abbiamo perso quattro partiti di seguito, cosa che non era capitata in campionato. L'importante è che è passato già e il nostro primo obiettivo, come l'avevamo detto all'inizio del campionato, era la salvezza. Siamo ancora sicuri al 100% che abbiamo raggiunto il nostro primo obiettivo, quindi cercaremo di fare questi altri punti al più presto possibile e poi si può pensare, vedendo come si mette il campionato, altro. A volte sbaglio qualche dribbling o qualche gol in ogni partita, però è normale, le critiche ci sono sempre, l'importante è che la squadra vada avanti e cerca di fare bene. Poi è difficile accontentare a tutti. Un giorno dovrei tirare uno, lo tiro senza nessun tipo di problema. Poi sì, si hanno sbagliato qualche rigore, però noi siamo un gruppo unito e chi sbaglia l'errore nessuno lo critica. L'avversario che ti viene di più della Lazio? C'è Rocchi che è un giocatore che non si può menosprezziare perché è un giocatore di alta qualità, si lascia l'espazio e uno non sta attento, ti può far male. Questo Alvarez, Alvarez di poco fa. C'è un amico in linea, pronto? Ciao Enzo, sono Gianluca da Bari. Ciao Gianluca. Saluto te all'oste. Ciao. Ciao Enzo, niente, volevo di nuovo dire il mio sottormento di Alvarez. Non so perché domenica è uscito Barretto e ha avuto il campo. Non ti piace Alvarez, insomma? Non piace Alvarez. Ma non è solo una cosa mia, se tu vedi in curva la maggior parte dei tifosi... Lo rimettiamo ai voti, vi piace Alvarez sì o no? Quindi chiamateci e dite la vostra su Alvarez. Facciamo un nuovo sondaggio Enzo. Rivas su Alvarez. Va bene, ok, d'accordo. Grazie, grazie. Magari aggiungiamo anche questo sondaggio. Rivas su Alvarez, anche se Rivas per Ventura deve giocare a sinistra e Alvarez a destra perché diciamo che Ventura fa giocare al contrario gli esterni, nel senso che fa giocare Rivas a sinistra perché accentrando si può calciare con il destro piuttosto che crossare. Il stesso discorso vale per Alvarez però sull'altra fascia. C'è un amico in linea, pronto? Buonasera, sono Piero Dacapuzzo. Ciao. Ciao Piero, ciao. Niente, semplicemente una cosa, non si può criticare Alvarez perché sappiamo che le caratteristiche sue sono quelle. E quante azioni ha fatto sulla fascia che ci ha mandato in gol? Questo lo dobbiamo comunque anche ricordare. E' chiaro che ultimamente sta sbagliando un po' di più però non dobbiamo dimenticare quello che ha fatto. Grazie, grazie. Alvarez sì, Alvarez no. Questo è un po' il sondaggio. Tu da che parte stai? Alvarez sì, perché comunque fermo restando che Rivas sta facendo, per quel poco che si è visto, si vede, per gli infortuni che ha avuto. Rivas comunque in alcune partite è stato devastante sulla sinistra, quindi lo confermerei a sinistra, confermando quello che pensa Ventura. L'alternativa ad Alvarez sulla destra non la vedo, anche perché, ripeto, Alvarez sbaglierà anche molto, però corre, copre, si propone sempre e sempre ligio a quello che gli impone Ventura. Non penso che ci sia un'alternativa, non lo abbiamo ancora visto, non lo abbiamo ancora potuto valutare. L'angella è come se non fosse venuto a Bari, per cui poi so, credo che sia ormai fuori rosa, per cui alternativa ad Alvarez non ne vedo. Per cui io dico Alvarez sì. Io non so se sia fuori rosa o meno, diciamo che Ventura ha detto un giorno che l'angella si è fatto fuori da solo, questo è un po' il pensiero di quello che era uno dei suoi massimi stimatori, perché l'angella è andato in nazionale con Ventura allenatore del Cagliari. C'è un amico in linea, pronto?